Si potrebbe andare da M.D. a fare la spesa Vengo anch'io L'ESP Per trovare la qualità A dei prezzi speciali Tre verdure saluta Spigano l'armi È formato lui! Ogni giorno risparmi comprando il suo giochettino Vengo anch'io L'ESP Vengo anch'io L'ESP Vengo anch'io Sì, tu sì Ma perché? L'ESP 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 L'ESP